Piano sanitario regionale, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l'edilizia ospedaliera, il Consiglio regionale ha approvato delle modifiche, perché si è scelto come governo regionale, come maggioranza di centro-destra di superare la logica degli ospedali unici provinciali, Consigliere Baiocchi? Sì, si è scelto questa logica perché è quella che era stata proposta in campagna elettorale con il programma elettorale, perché è quella che hanno manifestato in maniera molto chiara i cittadini della provincia di Pesaro-Urbino ed è una promessa che è stata assolutamente mantenuta, è un primo passo importante, un atto amministrativo fondamentale affinché si possa partire subito con la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Ospedale di Pesaro, ora la scelta tra case bruciate e muraglia, una scelta del Consiglio Comunale di Pesaro, lei per cosa propenderebbe? È difficile fare una valutazione e dipende anche dall'idea che il Consiglio Comunale, il Sindaco di Pesaro ha di questo tema, su questa tematica, l'importante è costruire subito un nuovo ospedale efficiente che faccia in modo che la mobilità passiva, che è il numero più elevato di tutta la regione Marche, il numero più elevato è quello proprio nella regione A, nella provincia di Pesaro-Urbino, faccia da blocco e insieme a professionisti che possano rappresentare in maniera molto importante il nostro ospedale riesca a tenere all'interno della nostra provincia, all'interno della nostra regione i cittadini. Con questa riforma Marche Nord è depotenziata o potenziata? No, non vi è nessuna volontà di depotenziare nulla, né a livello di reparti, né a livello di medici, né a livello di nulla. Vi è solamente l'intenzione di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di rapido, speriamo il più rapido possibile, e di fare tutto ciò che non sono riusciti a fare in 30 anni di Pesarese.